In un momento così delicato come quello attuale, per ciò che concerne il settore delle auto, tra grandi cambiamenti epocali e crisi e inflazione, la competitività è tutto, e Mitsubishi. In un momento così, ecco la sua scelta. Viviamo sempre di più in un grande mondo globale nel quale la produttività, oltre ad essere il nocciolo di ogni nuovo input settoriale, e le auto non ne sono escluse, è connessa fortemente alla connessa. Se un tempo c'erano solo grandi brand che dominavano il mercato dall'alto della loro proverbiale qualità produttiva, dalla loro storia e in nome della loro efficiente sicurezza, ora le cose sono un po' È vero che i giganti del settore restano giganti, ma nuove realtà sono immerse nel corso degli ultimi anni, specie con l'allargamento dei contini del mercato, appunto, e delle nuove tecniche È vero che i giganti, ora che la sostenibilità, poi, è diventato un parametro cruciale e essenziale e si pensa sempre più a un settore auto che si orienti verso l'elettrico, l'ibrido e verso le emissioni Ora che la sostenibilità, poi, è diventata Nuovi giganti emergono dalla Cina, ma colossi seri e autorevoli come i vicini nipponici della Mitsubishi non vogliono certo restare indietro Anzi, una vera e propria competizione Nuovi giganti Nuovi giganti emergono dalla Cina, ma colossi seri e autorevoli come i vicini nipponici della Mitsubishi non vogliono certo restare indietro Anzi, una vera e propria competizione Nuovi giganti Mitsubishi X4 ce rappresenta una vera sfida per i competitor, a partire dalle sue dimensioni, che ne traggono i confini di una vera erede della nota SX per l'Europa Mitsubishi X4, con una grandezza, cioè, da C, SUV, si presenta robusta, seria, autorevole, compatto Mitsubishi X4 c'è una macchina muscolosa con la sua stilistica scelta di apparire sia elegante che modernamente Arriva dall'Indonesia, a livello di fabbricazione, ma è nipponica nella sua connessione